E' il cucinino che poteva costare la vita a Lino Perencin, il sessantenne pensionato finito al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Fornelli sui quali per tutto il pomeriggio i vigili del fuoco hanno lavorato per capire da dove si è uscito il gas che ha avvolto il pensionato questa mattina poco dopo le 9. Tra le persone accorse nella sua casa di via Carrera d'Arcade il sindaco Domenico Presti. Stamattina la signora faceva appunto da mangiare, faceva il cavolfiore e ha deciso di farlo nell'interrato per non andare un po' alla casa diciamo nell'odore tipico del cavolfiore. E l'aveva spenta la cucina, il marito poi andato giù ha sentito odore di gas e ha chiuso la bombola. Solo che ho fatto una sciocchezza, poco dopo pensando che il gas fosse comunque evaporato ha acceso, quando ha acceso una vampata lo ha investito al volto. L'ho anche sentito da telefono poco fa che è all'ospedale di Padova, l'ho sentito abbastanza tranquillo, i figli adesso l'hanno raggiunto, credo comunque le conseguenze miauro non siano comunque gravissime. L'ustione dovrebbe riguardare per lo più una parte del volto e credo anche parte delle braccia.